Quale sarà il prossimo TCG che apparirà sul canale? Che tematica e caratterizzazione possiederà? E se vi dice sì, che sarete voi a sceglierlo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Di giochi di carte collezionabili si sa, ce ne sono stati molti, ce ne sono in gran numero e sempre di più ce ne saranno. E qui sul Crogiolo si fa di tutto per riuscire a poterli portare tutti, chi più, chi meno, anche attraverso un singolo contenuto, che può essere un TCG in meno di 20 minuti, un consiglio sugli acquisti, un video flash o più semplicemente parlandone in live. Ultimamente però, vagando per le pagine web di Fantasia Store, vi lascerò il link in descrizione, sono stato attratto dalla sezione Carte Collezionabili e più nello specifico dalla sottocategoria Altri Giochi di Carte Collezionabili, notando che oltre a Digimon, Flesh and Blood e One Piece, sono state aggiunte anche le sezioni riguardanti i GCC di Vanguard, Vice Schwarz, Attack on Titan e Battle Spirit Saga. Ora, per quest'ultimo già è stato pubblicato un contenuto che ha parlato del regolamento spiegato in meno di 20 minuti e sto lavorando di persona per assicurare la presenza di altri video riguardanti la reincarnazione di Battle Spirit, mentre per i restanti tre non ho mai avuto modo di crearci un qualsiasi argomento per mancanza di tempo o spazio all'interno del palinzesto. Quindi per questa volta sarete voi a decidere quale trading car game sarà il prossimo protagonista di un TCG in meno di 20 minuti, una live o di contenuti generici e vi spiegherò passo passo come fare per esprimere la vostra preferenza. Nessuna paura, nulla di incredibilmente difficile da fare. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i candidati per i prossimi contenuti sul canale. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo con Vanguard. Nato dalla collaborazione di diverse correnti di pensiero che vedono le tracce di Yu-Gi-Oh! R di Akira Ito, Duel Master di Satoshi Nakamura, Future Card Buddy Fight di Mitsuhisa Tamura e Takahaki Kidani, presidente della Bushiroad, il gioco di carte collezionabili basato sulla serie televisiva anime nata nel 2011, prodotta dalla TMS Entertainment, ha appassionato milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo. Una cosa che caratterizza Vanguard è la presenza di sole creature. Niente magie, trappole o artefatti in gioco. Solo la cruda potenza di fuoco di interi eserciti che, sul campo di battaglia, si sfideranno in match senza esclusioni di colpi. Vice Schwarz, altro prodotto ideato dalla Bushiroad, è un TCG che vedrà combattere personaggi provenienti da universi differenti a tema manga, anime e videogame. Nato nel 2007, questo gioco di carte ha radunato sotto un'unica bandiera molti nomi noti come Avatar The Last Airbender, Sword Art Online e Attack on Titan, diventando un fenomeno del settore soprattutto nelle terre del sollevante. Attraverso questo gioco potrete mettere le mani sulle carte del vostro anime, manga o videogame preferito, sfidando altri appassionati in partite che vedranno collidere interi archi narrativi che vi vedranno protagonisti assoluti. Arriviamo infine ad Attack on Titan. Il TCG basato sul capolavoro indiscusso, nato dalla matita di Hajime Isayama e distribuito dalla Panini, vedrà i protagonisti dell'opera Dark Fantasy post-apocalittica popolare la plancia di gioco con l'intento di annientare i giganti che abitano al di là del Wall Maria. Gioco interessante, soprattutto perché tratta uno dei manga più amati di sempre, che attraverso le sue dinamiche vi vedrà combattere al fianco di Levi, Eren e Mikasa per la sopravvivenza del genere umano. E per quanto riguarda invece Battle Spirit Saga Arconte? Come già accennato ad inizio video, per BSS che, a differenza dei tre titoli appena menzionati o giocato personalmente, arriveranno di sicuro altri contenuti. Non so quando, dato che, lo ripeto, per problemi di palinsesto o degli spazi piuttosto risicati. Una volta esce l'unico anello, un altro P04, il 151 di Pokémon, poi l'Orcana e così via. Ma mi sto organizzando al meglio con le pubblicazioni per riuscire a dare ad ogni TCG lo spazio che merita. Ora, però, parliamo di come potrete aiutarmi a decidere quali dei precedenti GCC comparirà presto sul canale. Per agevolarmi il compito vi basterà scrivere qui sotto nei commenti uno dei titoli appena trattati e su Instagram, se ancora non seguite il profilo lo troverete in descrizione, rispondendo al sondaggio che pubblicherò personalmente in giornata. Tutto qui. Venerdì 15, quindi, raccoglierò tutti i voti e stillerò una classifica generale che renderò pubblica non appena il conteggio giungerà al termine. Prima di concludere, in descrizione vi lascerò il link di ogni pagina dedicata ai TCG menzionati nel video, così da poterli provare allargando i vostri orizzonti personali nello sconfinato universo dei giochi di carte collezionabili. E voi avete già mosso i primi passi in uno, magari tutti i titoli che abbiamo trattato in questo contenuto? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.